Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Starcraft 2 Legacy of the Void in multiplayer in uno contro uno Siamo nuovamente in un replay, è stata la partita che ho fatto praticamente verso l'ora di pranzo e devo essere sincero voglio farvi vedere questo replay perché è stata veramente una delle partite più divertenti che abbia mai fatto e ho utilizzato i Mech, quindi ho utilizzato l'Eleon, carri armati con qualche piccola aggiunta di Viking ovviamente vedremo in generale come è andata la partita, come si è svolta ho seguito abbastanza, penso, una delle strategie che mi è stata richiesta e devo ammettere che mi sono stra divertito e quindi in generale vediamo un po' che cosa è successo come vi dicevo è un Terran contro Terran, quindi... beh, accendi l'audio è un po' forte qui, scusate wow, musica please, chi è questo camacello? mamma mia penso un pochino più basso, dovrebbe bastare, ok scusate allora, cominciamo in modo abbastanza standard cominciamo con la tipica opening, il mio avversario ha la stessa identica cosa lui manda subito il suo scout, io mando pure il mio non si sono incontrati, ecco che razza di puffing, cioè puffing vabbè, comunque si capisce in generale che cosa voglio dire riesco a controllare e non vedo nulla di strano il mio avversario fa il centro orbitale, dà un po' di fastidio al mio SCV io non mi accorgo del suo invece che era qua poi ovviamente lo distruggo con il Reaper tutto ok comincio a fare subito il reattore, anche perché dopo il reattore avrei cominciato a fare subito la fabbrica prendo anche la mia espansione, mentre il mio avversario è ancora qui non l'ho affatto e è andato subito per la costruzione della fabbrica che diciamo l'ha costruita un poco prima di me ha fatto anche un'altra caserma mentre io qui ho fatto due marine così tanto per e nel frattempo con questi minerali in più che ora come ora vedete che ne ho 400 ho costruito un altro centro di comando è una piccola cosa che ho imparato per fare più SCV in effetti poi sarà anche molto utile perché prenderò velocemente questa base però questo terzo centro di comando mi aiuta a mettere a posto la mia seconda espansione facendo aumentare il numero di SCV molto molto più velocemente ora qui diciamo che ci sarà uno scontro Reaper contro Reaper sfortunatamente un po' lo perdo per il semplice motivo che non ho seguito subito lo scontro me ne sono accorto un po' troppo dopo qui ho provato un attimo a seguire ho provato anche a fregare il mio avversario purtroppo sono andato a finire su questa granata e alla fine lui ha vinto lo scontro per davvero poco però è stata una cosa piuttosto interessante qui stavo cominciando a preparare i miei alien li ho messi infatti in posizione pronti in caso a respingere il mietitore che probabilmente sarebbe arrivato almeno ho pensato arriverà molto in fretta comunque cercherà di vedere nel frattempo il mio avversario qua sta facendo già qualche caro armato ha preso la sua espansione io già ce l'avevo pronta avevo anche dei mule che stavano lavorando e ora qui il mio avversario ha l'attacco giusto giusto dal lato dove non avevo i miei alien non mi sono accorto subito del suo attacco diciamo che qui sono stato un pochino anche sfortunato perché ho perso il mule e i quattro alien non sono riuscito a distruggere il mietitore prima che lui potesse fare il danno quindi distruggendomi uno dei mule ma alla fine non ero poi tanto preoccupato nel frattempo in base stavo facendo svariati moduli tecnologici utilizzando la mia caserma invece che costruire la fabbrica e poi costruire il modulo così sarei stato anche più veloce qui stavo facendo ora il mio spazio porto in generale le mie risorse come vedete sono abbastanza basse e qui sono partito cercando di dare un po' di fastidio alla sua economia però ancora la sua base praticamente non era nemmeno pronta quindi in pratica questi poveri alien non hanno fatto un granché in effetti non me l'aspettavo completamente di non trovare praticamente scv qui al lavoro però questo mi ha dato un'informazione piuttosto importante mi ha fatto vedere che aveva già due carri armati quindi qui ho pensato ok ora mi devo preparare anche io perché è probabile che lui già sia quasi pronto per un attacco perché avere due carri armati e quant'altro beh mi fa pensare molto comunque qui ho cominciato a fare uscire i miei primi carri armati faccio anche l'armeria anche perché così posso trasformare gli alien in hellbat anche se comunque li preferisco solitamente in assetto mobile in questo modo anche perché sono molto veloci e diciamo posso chiudere le distanze contro i carri armati anche se comunque gli alien non sono certamente le unità migliori per rispondere ai carri quindi il mio avversario in questo caso sta andando per altre caserme quindi è andato per una tipica build abbastanza biologica quindi con marine devastatori non tanti devastatori perché contro i terran terran contro terran devastatori non si usano poi più di tanto e nel frattempo lui comincia a controllare la situazione nella mia base comincia a utilizzare qualche scan io preparo qualche liberatrice così difensiva anche se comunque poi vedendo lo scan un attimo dico vabbè lo sposto per il momento non mi interessa poi più di tanto quindi per il momento ho pensato a mettere a posto totalmente la mia economia e qui infatti state vedendo che la produzione va molto bene ho qualche altro carro armato sto preparando un sottospecie di muro per i miei carri diciamo per metterli dietro qualcosa quindi dare un po' più fastidio a me per sé anche se questa cosa possibilmente non è tanto utile contro i terran ho pensato un attimo come se avessi contro uno zerg quindi onestamente questa cosa forse potevo anche risparmiarmela però alla fine avevo bisogno di risorse quindi non è poi la cosa più sbagliata di questo mondo ok quindi continuo a tirar fuori gli elion una cosa che ho sbagliato in questo caso è il fatto che dovevo ricercare subito le fiamme blu che avrei aumentato di un bel po' il danno degli elion e quant'altro e soprattutto perché così avrei probabilmente gestito meglio un po' la situazione contro i marine che poi sarebbero arrivati qui ho preso come vedete la mia terza espansione ho spostato soltanto il centro orbitale che avevo in base e l'ho portato qui quindi adesso il mio avversario si prepara ad attaccare io intanto stavo facendo anche dei viking anche perché ho pensato secondo me farà qualche navetta medica o qualcosa del genere oppure voglio essere sicuro che non ci siano problemi con qualche tipo di unità aerea qui ovviamente ancora la base non la stavo poi tenendo tanto sotto controllo e devo essere sincero questo lato della mappa non l'avevo completamente notato anche perché per me questa mappa è abbastanza nuova quindi il mio avversario qui ha distrutto questo muro di macerie e qui stavo anche cominciando a far uscire i saikon ecco ero dimenticato che oltre agli elion e ai viking e ai tank sono andato anche per i saikon che sono delle ottime unità devo ammettere per cui il mio avversario mi attacca perdo un bel po' dei miei elion però diciamo che alla fine nonostante tutto sono riuscito a fermare il suo attacco utilizzando gli elion anche se come potete vedere diciamo che non è stata la cosa più efficace di questo mondo anche perché i carri non si fanno assolutamente nulla ho perso un bel po' di unità ma non ero per niente preoccupato onestamente anche perché qui non avevo completamente perso i carri proprio non avevano preso nemmeno mezzo danno avevo qualche viking pronto e stavo continuando a produrre come un animale veramente cioè anche perché le basi stavano funzionando abbastanza bene questa base è un pochino tra virgolette trascurata anche se in realtà stavo facendo altri SCV ho cominciato a pensare ora voglio prendere un altro po' di gas in più anche perché minerali ne ho tanti sto producendo abbastanza stavo costruendo nel frattempo fabbriche dappertutto e quant'altro perché comunque stavo pensando allora devo spendere quanto più possibile le mie risorse e voglio anche essere sicuro di poter rifare in caso il mio SCV abbastanza velocemente quindi ho pensato di fare anche una fabbrica in più con il reattore piuttosto che con il modulo tecnologico così da avere una produzione un po' più veloce di Elion so perfettamente che gli Elion in questo caso non sono stati proprio la scelta migliore almeno per quanto riguarda i carri ammati io qui un attimo utilizzo non scan e mi rendo conto che nel suo esercito ci sono anche i Marine e dico benissimo i Marine solitamente camminano in grossi gruppi per quanto gli Elion scoppino molto velocemente contro i Marine perché comunque Steampack e quant'altro li aiutano non poco diciamo che se li riesco a prendere con le fiamme blu e quant'altro dovrei riuscire a massacrarli molto velocemente purtroppo ancora qui non avevo fatto le mie caspite i miei caspite di aggiornamenti per le fiamme blu e riguardando ora il replay sto pensando e dai fallo quando ci metti quando ci metti accorgersi del piccolo errore che hai fatto qui in generale ho pensato anche di fare poi l'acceleratore di campo magnetico così aumento i danni di aggancio del Cyclone così in pratica ho pensato proprio a potenziare al massimo le mie unità quindi ora il mio avversario si avvicina minaccioso verso la mia base purtroppo non mi sono accorto della distruzione di questo muro infatti è molto probabile che in questo tratto poi ho perso questa base un attimo me ne sono accorto quindi ho cominciato a spostare il tutto però ho detto vabbè l'ha distrutta un po' troppo velocemente purtroppo i marine la distruggeranno anche perché ha preso a fuoco ma io sono pronto ti aspetto va bene quindi qui lui è riuscito sicuramente a fare un buon danno alla mia economia intanto ho lanciato anche i viking lì addosso alle navette mediche purtroppo molti vengono distrutti anche gli SCV purtroppo vengono abbattuti facilmente nel frattempo il mio avversario si dimenticava un attimo dei miei carri armati messi in posizione sono molto lontani quindi non rischiano di essere distrutti e nel frattempo stava mandando un altro platone di unità qui ho fatto anche qualche Thor che poi comunque non sono state le unità che ho voluto utilizzare perché ho pensato sono corazzati quindi onestamente i carri armati avversari li avrebbero direttamente distrutti quindi non era proprio la cosa migliore qui ho provato un attimo a pensare ora attacco vediamo un po' che cosa succede purtroppo il mio avversario si era fermato giusto giusto qui e quindi ho perso praticamente queste unità che stavano andando all'attacco in realtà i carri armati poi ho visto che la cosa stava andando molto male e li ho portati indietro anche perché ho pensato i carri sono molto molto importanti per la mia sopravvivenza in questo momento quindi qua decido di ricostruire la mia base fortunatamente la mia economia ancora era abbastanza stabile per quanto diciamo che in questa partita ho pensato più che altro ok se perdo l'economia completamente sono fritto mi ha fatto un buon danno distruggendomi la terza base quindi lui in questo momento dovrebbe avere un'economia maggiore rispetto alla mia e finalmente ok mi ero accorto degli aggiornamenti da fare per le mie unità ecco qui infatti le fiamme blu le vedrete come dopo aver fatto queste fiamme blu i marini praticamente non saranno poi un grossissimo grossissimo problema quindi ho aspettato ho cercato di un attimo rimettere a posto il tutto lui si controlla che io non stessi riprendendo la base invece la stavo riprendendo quindi arriva qui con le navette mediche io mi allontano un po' e non mi accorgo nuovamente di questo attacco qui però me ne sono accorto subito dopo che apparentemente aveva distrutto quel povero scv e la raffineria però qui onestamente si è avvicinato gli elbat con le fiamme blu ed ecco che i marini sono costretti a ritirarsi immediatamente quindi qua stava anche arrivando un scv me ne accorgo e rimetto a costruire questa base qui il mio avversario stava provando a fare qualcosa di piuttosto interessante del tipo che voleva distruggere queste pietre io me ne accorgo perché comunque si vedono tipo gli spari ad esempio se in questo momento io metto la posizione così vedete un attimo che mi sono accorto delle pietre che stanno perdendo vita cosa sta succedendo? beh mi accorgo che il mio avversario vuole distruggere il tutto e allora mi preparo a dargli fastidio utilizzo uno scan comincio a utilizzare un car amato per farlo andare via anche se onestamente avrei potuto posizionare molto meglio i miei carri e apparentemente distruggergli il tutto ma ok a questo punto il mio avversario un attimo si ritira poco poco non erano poi tutte le sue unità quindi lui intanto stava continuando a rifornire e io nel frattempo stavo continuando a creare elion e quant'altro perché sono rimasto fedele alla strategia ovviamente voi mi avete chiesto di fare questo tipo di strategia e l'ho fatto al 100% ora ho aspettato qui perché sapevo che la mia tezza base era a questo punto il punto dove il mio avversario voleva proprio rompermi le scatole quanto più possibile e infatti ho cominciato un attimo a corazzarla un po' di più il mio avversario si avvicina utilizza uno scan quindi a questo punto ormai ho capito il suo gioco dico va bene vuole attaccare questa base quindi a questo punto aspettiamo qui mi allontano un po' cerco di dargli l'impressione come se io stia andando utilizza un altro scan un altro io utilizzo uno dei miei per vedere se in realtà sta facendo qualche finto qualcosa del genere e allora mi preparo con Ikari anche perché lui sapeva che io mi stavo spostando verso la parte inferiore della mia base o comunque verso la mia seconda espansione a questo punto lui posiziona le liberatrici io me ne accorgo qui è meglio che metta un attimo il mio campo adesivo vedo le zone delle liberator questi elbat un attimo vanno avanti il mio avversario utilizza un mule per provare a far sparare i carri armati addosso al mio esercito però beh non ha funzionato un gran che allora ho fatto questi viking dove siete eccovi qua ora questi due viking li ho utilizzati in un modo abbastanza divertente devo essere sincero l'ho preso un po' a gioco veramente questa parte mi ci avvicino piano piano tengo il mio esercito pronto controllo che lui sia ancora qui ad aspettare che io faccia una mossa o qualcosa del genere genere e guardate un po' utilizzo i miei viking per attaccare le liberator attirare leggermente fuori posizioni marine anche perché se vedono qualcosa che attacca beh ciao una liberator va giù e il mio avversario è costretto quindi a spostarsi adesso voglio un attimo accelerare anche perché mi pare che qui avrei utilizzato poi un altro scan oppure no mi sono spostato e ho utilizzato anche lo scan e poi mi accorgo che il mio avversario si è spostato e vedremo dove di preciso si dovrebbe essere spostato da queste parti vediamo un pochino dove si sta muovendo in questo momento lui si stava raggruppando io infatti ho utilizzato uno scan vedo che si sta muovendo e nel frattempo mando anche un alien in ava scoperta per vedere se c'era qualche rimanenza da queste parti se magari mi stava aspettando qualcosa del genere nel frattempo sto prendendo un'altra base perché mi rendo conto i miei minerali non sono messi tanto bene quindi voglio cercare di rimettere a posto la mia economia in questo momento sto anche pensando al fatto che il mio avversario era alle mie porte quindi di nuovo aspetto non faccio niente di avventato perché buttarmi nel mezzo mentre ci sono le liberator qui non è di certo la cosa migliore io utilizzo i viking e vedete come i carri armati praticamente riescono anche a decimare il numero dei marine continuo a utilizzare i viking in questo modo approfittando dell'errore a questo punto del mio avversario perché ok le liberator possono dare sicuramente fastidio ma i viking possono attaccare a una lunga distanza e posso sicuramente dargli fastidio allora continuo a questo punto ad aspettare che lui faccia una mossa sbagliata perché onestamente non ero poi così tanto convinto di farcela se devo essere sincero con voi perché il posizionamento con quei carri armati è troppo importante ho pensato più che altro i miei elion non sono abbastanza potenti per distruggere il tutto comunque qui a questo punto continuo a spostare il mio esercito è come se io lo stessi proprio seguendo utilizzo qualche scan controllo che la situazione sia comunque sotto controllo ora lui utilizza pure dei viking perché come mi avrà pensato guarda ha rotto un po' le scatole con sti cosi al solito lo attiro però riesco a fare attenzione con i miei viking li utilizzo soltanto per dare qualche piccolo colpetto al liberator nel frattempo il mio avversario si avvicina entra nel mio campo visivo ed ecco che cosa succede adesso un'altra enorme battaglia i miei carri armati pronti in posizione i suoi un po' meno e praticamente ho eliminato la maggior parte del suo esercito per non dire che ho eliminato tutto il suo esercito e qui allora non mi ero accorto male che praticamente sta una metà medica si è portato questo caro armato mentre era in modalità d'assedio ah non l'avevano levata sta cosa cioè c'era proprio scritto nel patch note ne abbiamo parlato proprio durante l'ultimo stream cioè questa cosa non l'ho ben capita cioè ho letto anche i patch notes riguardanti l'ultima patch cioè devo essere sincero perché ho visto che hanno aggiunto Alarak come comandante mi sono anche cioè ho guardato proprio se c'erano qualche se c'era qualche informazione in più per quanto riguarda il multiplayer o cose del genere comunque qui aveva una fortezza planetaria mi sono accorto anche degli incrociatori allora questo mi ha dato un messaggio diciamo di fare altri viking allora ho aspettato un attimo mi sono raggruppato ho raggruppato diciamo tutte le unità mi sono raggruppato non si può sentire ho detto vabbè continuo a creare pressione anche perché la posso fare avvicino un pochino di più i miei carri armati riesco a distruggere questa fortezza planetaria quindi riesco a fare anche un po' di danno alla sua economia continua il mio attacco riesco a distruggere anche un bel po' di scv purtroppo poi questo attacco non andrà poi così tanto bene perché diciamo ho lasciato i carri armati un po' troppo tempo fermi e diciamo che questo unico carro ha fatto molto più danno di quanto dovesse farlo quindi controllo con i viking cosa aveva un po' più avanti distruggono uno aveva già un buon numero di marine ho visto anche questo incrociatore qui mi ha fatto pensare ok vuole andare per qualche incrociatore qua ora il mio avversario decide di distruggere questo muro perché so che io posso ancora qui nel frattempo io mi sto spostando completamente mentre avevo rifatto totalmente il mio esercito senza problemi ho aggiunto qualche caro armato ho aggiunto qualche viking in più per rispondere agli incrociatori ecco qui un'altra mini battaglia qui in realtà non è successo niente di troppo particolare vedendo questa situazione vedendo anche il tempo che scorreva ho detto ok a questo punto voglio fare una cosa molto rischiosa continuo a questo punto a finire ho visto anche che avevo il massimo delle mie risorse e allora qui comincia uno dei momenti più belli della partita se devo essere sincero qui decido di muovermi aggiro praticamente il suo esercito completamente me ne vado e decido di andare all'attacco andiamo all'attacco e allora qui il tutto si trasforma in una base race quindi cos'è la base race praticamente la corsa alla base in pratica ho deciso di lasciare andare la mia base quindi entrambi ci distruggeremo le rispettive basi quindi non avremo più un granché di produzione non avremo più come fare unità però ho pensato al me il base race non mi dispiace perché vedendo cosa stava succedendo da queste parti ho pensato alla fine il suo esercito non è un granché se devo essere sincero rispetto al mio non non ha paragono cioè guardate un pochino le mie risorse 179 contro 97 e in effetti qui ho valutato che alla fine per quanto io abbia perso tutta la mia base non mi interessava più di tanto ho voluto tra virgolette dargli questa soddisfazione di distruggermi finalmente la base dopo che praticamente l'ho tenuto in sotto controllo per la maggior parte della partita e vedrete perché ho detto questo perché magari state pensando vabbè hai avuto soltanto fortuna in questo caso beh onestamente avrei potuto tranquillamente mettermi da qualche parte qui aspettarlo e distruggergli tutto invece diciamo che ho distrutto tutto quello che aveva qui nella sua base l'unica struttura che gli era rimasta era questo centro di comando che se avessi probabilmente distrutto avrei anche vinto direttamente senza aver bisogno di fare l'ultima battaglia qui avevo ovviamente spostato il mio centro di comando da un'altra parte mentre qui c'era un'altra fortezza planetaria il mio bestaglio qui si stava preparando e io mi stavo preparando ad incontrarlo per l'ultima volta per l'ultima battaglia lui ora qui riesce a distruggere la fortezza planetaria perché era molto distante io qui posiziono i miei carri un attimo faccio attenzione perché gli alien sono molto veloci quindi vanno molto spesso avanti da soli mando i viking avanti faccio focussare gli incrociatori e nel frattempo il suo esercito va completamente giù gli incrociatori vanno come vedete i miei viking stanno ancora bene distruggo le navette mediche e il mio avversario qui non può fare altro che dare il gg anche se in realtà non l'ha dato molto bene ragazzi questa è stata la partita una delle partite più divertenti che abbiamo mai fatto e devo essere sincero la possibilità di andare con i mechs è stata davvero bella cioè non ho perso nessun carammato e questa cosa penso che mi abbia davvero dato una mano in questi combattimenti cioè forse qualcuno l'ho perso per strada ma ovviamente vedendo un po' la situazione direi che ne avevo abbastanza dei fagli davvero tanto male poi beh credo di aver fatto le cose migliori per il momento almeno secondo la mia esperienza credo di aver fatto abbastanza bene considerando che non sono un pro quindi beh fatemi sapere un pochino cosa ne pensate quindi di questa partita ovviamente voglio fare altri tentativi con questo tipo di build cioè utilizzare soltanto gli alien e quant'altro sono stato magari un attimo avventato nel lanciare quegli alien all'inizio contro questa base non sapendo il numero di scv ben preciso la prossima volta magari ci farò un po' più attenzione diciamo che questo replay mi è sicuramente servito per imparare moltissimo molto bene ragazzi direi che per il momento è tutto e noi ci vediamo al prossimo video a Grazie per la visione!